L'inviato redazione esteri della RAI Gianmarco Sicuro presenta il suo nuovo libro Grano, edito da Gemma Edizioni alla libreria Mondadori Bookstore di Ponte Cagnano Faiano. Un appuntamento in programma martedì 20 giugno alle 18.30, organizzato dal blog I Volti di Cassandra, in collaborazione con il Circo L'Occhi Verdi Legambiente di Ponte Cagnano, il Comitato Unicef di Salerno e Cornea Energia Ingegneria SRL. Un libro che non è un'analisi geopolitica, ma un lungo articolato racconto della guerra dal punto di vista di chi la subisce, le persone. I rifugiati in fuga, i bambini terrorizzati nei bunker, gli anziani evacuati in carrozzina sotto le bombe, i ragazzi che si improvvisano soldati. Un mosaico di storie che inevitabilmente si intreccia con piccoli pezzi di un mosaico di pace, di accoglienza delle persone ucraine sul territorio ad un anno di distanza dal conflitto, come ha dichiarato ai nostri microfoni Lucia Zoccoli del blog I Volti di Cassandra e dalla giornalista Stefania Maffeo, curatrice del gruppo Facce da Libri e membro del blog I Volti di Cassandra, che dialogheranno martedì pomeriggio alle 18.30 con l'autore Gianmarco Sicuro nel corso dell'incontro alla presenza del presidente del Comitato Unicef di Salerno Giovanni Pierro e Carla Del Mese, presidente del circolo Occhi Verdi di Legambiente di Ponte Cagnano-Faiano. È verissimo, è un appuntamento importante la presentazione del libro Grano dell'inviato esteri della RAI Gianmarco Sicuro perché rifletteremo non solo sul conflitto in Ucraina ma sulle storie, sulle storie delle persone, sulle vite che si rimettono in gioco e sui tanti modi per creare relazioni. Come nasce l'idea di invitare Gianmarco Sicuro alla presentazione del libro e perché proprio questo libro? Ti dico subito, il blog I Volti di Cassandra, io e Lucia Zoccoli da sempre cerchiamo queste tematiche che possono unire le persone. Gianmarco ha accolto subito il nostro invito di ritorno dall'Ucraina, ci racconterà di alcuni reportage in zone e in storie ancora più difficili ma noi siamo pronti per accoglierle e per trasformarle in energia creativa. È un libro che dà speranza. Già la copertina, se si guarda bene, anche se in bianco e nero, dimostra un campo di calcio in cui questi bambini che fanno parte di una squadra di calcio che si chiama proprio Colos, che in ucraino significa spiga di grano, danno la speranza che qualcosa deve cambiare perché questa guerra è una guerra combattuta sicuramente per la libertà e gli ucraini credo stiano combattendo anche per noi. Quindi chiediamo con forza che un tavolo per la pace ci sia assolutamente, che Putin riveda questa sua posizione perché anche l'atto criminale, secondo me, di far esplodere questa centrale, questa diga nella regione di Carson ha di fatto inficiato il futuro di questi campi di grano. Saranno tante le persone che parteciperanno all'incontro al bookstore della Mondadori martedì pomeriggio perché non a caso anche il nostro territorio ha fatto tanta accoglienza durante il periodo della guerra. Sì, sicuramente abbiamo con Stefania deciso di invitare una parte della comunità coraina presente a Ponte Cagnano che noi silenziosamente sosteniamo da tempo perché le cose fatte non vanno sempre dette ma noi siamo ormai affezionate perché, ripeto, lei ha detto bene, creiamo ponti, noi creiamo ponti senza pregiudizi guardando gli altri con grande umanità perché credo che l'umanità è quella che poi può smuovere anche la questione della guerra in Ucraina.